E te, qual'è il piano? Cooper, ti consiglio di uscire, così potrò lanciarti sulla Draconis. Regolazione per resistenza aerodinamica. Calcolo. Due passo a dentro! A presto, Settuccio. Inserbe copertura. Ube, mira a l'abitacolo. Spara! Ho perso il tettuccio, mi serve copertura. Ube, mira a l'abitacolo. Ti stai bene? Braccio sinistro tanneggiato, ma sono ancora operativo. Questa nave sta perdendo quota rapidamente. Bocca a noi, Ube. Qua giù. Attenzione, c'è un titan! In arrivo all'unità di contenimento dell'arte. L'unità di contenimento è troppo grande. Dobbiamo improvvisare. Non posso raggiungere l'arte. Ube, mi serve il tuo aiuto. Presto, dobbiamo abbandonare la nave. Non c'è più tempo. Di qua, Ube. Porta via l'arca! Negativo, siamo bloccati. Che fai? Protocollo 3. Non perderò un altro pilota. Pronti all'impatto. Me ne infischio dei tuoi problemi, Blisk. Una volta consegnata l'arca, il pagamento verrà trasferito dall'IMC, come da contratto. Tu prepara i miei soldi. Io ti riporto il tuo prezioso calico, inutile idiota. Ehi, Titan! Adesso tu ti apri e mi dai quello che voglio. Comando vocale non riconosciuto. Lo faccio parlare io. Troppo rischioso. L'arca è instabile. Ascolta, Leroy. Tu hai ciò che è mio. E io lo ripoglio. Avanti. Di al tuo Titan di aprirsi. Su cosa? I suoi sentimenti? Ah, cerchi ancora di fare l'eroe. Questo contratto farà di me un uomo riconico. Di al tuo Titan, che se no si apri, io ti sparo in testa. Pilota in pericolo. Sistemi visivi precari. Non riesco a vedere il pilota. Tiralo su. Lo vedi ora? Qui, proprio qui. Sì? Ora lo vedi? Funzioni compromesse da gravi danni causati dallo schianto. Non mi importa quanto sei rotto. So che in fondo alcune cose, alcune cose funzionano ancora. Ora apriti. O sparerò al tuo pilota dritto in testa. I numeri li ricordi, vero? Adesso conto fino a tre. Uno. Tre. No. Non è stato così difficile, vero? E questo è il problema con le squadre. Se non si vince insieme, si muore insieme. Attenzione! Fatelo fuori! Veri tentativi. Di buonanotte. Ehi! Portami all'arca! Non abbiamo più tempo! Non abbiamo più tempo! Cooper, di qua! Cooper, non posso più proseguire la missione. Ma tu puoi. Prendi chi sia. È la tua migliore possibilità di sopravvivenza. Prenditi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come state? Cooper! Mi ricevete! Passo! BD-7274! Cooper! Mi ricevete! Passo! BD! Cooper! Cooper! Sei tu? Sto raccogliendo il nucleo di BT! Cooper! Sono il comandante Sarah Briggs! Se mi ricevi, vai al ponte a un chilometro a nord della tua posizione! Abbiamo una possibilità per ribaltare questa battaglia, insegno! La nostra flotta va all'arma da piegamento! Siamo arrivato! Non è ancora finita! Il pilota ha avvistato! Fuoco a volontà! Siamo arrivati! All'arma da piegamento! All'arma da piegamento! Sei diretto nella direzione giusta! Continua a muoversi! Le difese antiaeree intorno all'arma da piegamento sono molto pesanti! Non riusciamo a posare piedi a terra e non abbiamo quasi più idee! Non riusciamo a posare piedi a terra! I'vissaggio a terra! Abbiamo un ultimo Vanguard nell'arsenale. Estraggo il suo nucleo e lo preparo per Titanfall. Ascoltiamo il centrale. Questi con la unica di basare di Giovanni. Grazie a tutti. Cooper, il tuo Titan aspetta. Chiamalo quando sei pronto. Prepararsi a Titanfall! Ciao, Jack. Felice di riaverti tutto intero, BT. Oltre 25.000 pezzi in verità. BT-7274 online è pronto per la battaglia. Portiamo a termine la missione. Cooper, sto lanciando tutto quello che ho all'IMC, ma non sarà sufficiente per fermare l'arma da piegamento. Devi entrare nella sala di controllo. Comandante Briggs a tutte le postazioni. Voglio fuoco di supporto ravvicinato su Cooper e BT a qualunque costo. Ricevuto, porta è chiaro. Cooper, sali quella collina. Ti copriamo. Muoviti. Rilevo i versagli. Sparo, pericolo vicino. Non vedo la scucia, bro. Non vedo la scucia, mirata. Vivendo, sparo, pericolo vicino. Non vedo la scucia offline. Versagli agganciati, fuoco. Non vedo la scucia. Rilevo i versagli. Sparo, pericolo vicino. Non vedo la scucia. Rilevo i versagli. Sparo, pericolo vicino. Avuto il nemico a terra. Versagli agganciati, fuoco. Versaglio avvistato, vado. Rilevo i versagli. Sparo, pericolo vicino. Mi spiace, pilota. Ma per te è finito. Mi vedo. Sparo. Pericolo vicino. Pericolo vicino. Stronzati, tu non sei un pilota. ma pericolo vicino. Ma pericolo diventando la scucia. ersagli agganciati, fuoco. Si sale Muoviti, non fermarti Vai da qualche parte, pilota, non credo Prelevo i vertagli, paro, pericolo vicino Vai da qualche parte La Stockton è sparita, voglio un rapporto, subito Qui è il capitano Landegard della Rathledge La Stockton sta precipitando Comandante Briggs, qui Gates della 64 Siamo in ritardo? È bene in tempo, Gates Quanta potenza ti è rimasta nella Malta? Ne abbiamo volontà Tranquillo, Coop, ti guardiamo le spalle Sistemi di mira attivi Siamo pronti a sparare Fuoco, pericolo vicino Ho sempre voluto uccidere la banca Fuoco Fine corso, pilota E' stagli accacciato, fuoco Stai come un principiato Fuoco, pericolo vicino Ok, finisci alla fine Questo è un ottimo allenamento per te Anche se non ti sentirai Ora non si torna più dietro Ripeti, ti taroppolo Torniamo questi di dosso Da qui in poi sei da solo Nucleo ascolti a rollo Nucleo ascolti a la tribale Super, rileviamotwist che Sloane più avanti hanno l'arca. Continua a muoverti. Dobbiamo impedire a tutti i costi che gli MC usi l'arma da piegamento. Altrimenti Harmony, pianeta della milizia, verrà distrutto. Attenzione, gravi danni a lo scambio. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Attenzione, personale dell'IMC. Qui è il generale Marder. I mercenari hanno consegnato l'arca. Preparate l'arma da piegamento. Inizializzazione sistemi di alimentazione, arma da piegamento. Caricamento ricevitori di puntamento. Posizione su Harmony, il pianeta della milizia. Avvio sistemi di puntamento. Harmony. coordinate 2, 6, 4.5, 8, 8, registrate. Avvio sistemi di puntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È tutto tuo. Vieni pure il resto. Chi ha mai parlato di resto? Questo lo faccio gratis. Sai cosa vedo quando ti guardo? Un mucchio di sottifaccia. Non puoi scappare da un nucleo laser. Un mucchio di sottifaccia. Un mucchio di sottifaccia. Prendetelo, ragazzi. Preparazione arma da piegamento. Fase 2. Coordinate agganciata. Sistema Fripoli. Designazione planetaria. Armoni. Pronta a combattere. Addio, piccolo bastardo. Arma da piegamento Fasi 3. Calcolo proiezione piega spaziale. Nucleo a funzione pronto. Finalmente hai trovato il comando giusto. Bravo. Hai da nemico a terra. Che sogno amorcioso posto, eh? Vediamo come te la cavi con questo. L'arma da piegamento si avvicina alla Fase 4. Inerzia dell'anello 97. Dai! Facciamo la decilentra! Questi saranno soldi facili. Potrei farlo anche gratis. Non dovrò neppure sudare. Ehi, non te ne andrai così facilmente. Attenzione. Energia di scarico vicino alla foglia le tasse. Tutto il personale deve lasciare subito la sala. Previsto grave disturbo alle unità e alle collezioni. Inclusi Titan. Allora ho finito con te. Avro i miliardi. Attenzione. Creatore instabile. Richiesta sostituzione batteria. Attenzione. Gravi danni a vostri. Combatti come un soldato semplice. D'altronde sei un soldato semplice. Non è solo una bella faccia. Ganna. Non verrò disposta da una vallerenza. No! Super, porto l'arca fuori di libri. Ma che farsa? Adesso! Nuve una spuzia offline. Preparazione arma da piegamento completata. Spieramento a. Sui diciamo. Super, carico degli autori a sovracaricare i miei cussimi. matern pick critics. tuffi Office. Super, semi oculari. Abbiamo sperato ogni cosa contro l'arma da piegamento è inutile. Sì, stemi visibili, 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 visibili. Le analisi iniziano che il lancio è l'unica opzione. Posso lanciare, attenzione. Lancia lancia. L'haite, nemico rilevato. Dove, vove, 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 vove. Sei fortunato, eroe. Oggi non ti uccido. Io non lavoro gratis. Però... nemmeno tu riuscirai a uccidere me. Tieni, te la sei meritata. Flisk, il Titan di classe Vanguard è ancora là dentro. Non è un mio problema, Marder. Dovevi scriverlo sul contratto. Devo vedere altra gente ricca. Che stai facendo? Cosa credi di fare? Le analisi indicano che il lancio è l'unica opzione. Le analisi indicano l'unica unione. C'è l'unica opzione. Il lancio è l'opzione. Il lancio è l'unica... C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-p-c-c-c-c-c-c-c-c. Gli youtuber ho bisogno del tuo aiuto, i sistemi di navigazione sono offline, portami a quell'iniettore, dovremo collaborare, dovremo collaborare. Dobbiamo proseguire, il nucleo del mio reattore è diventato in france, non so poco tempo abbiamo. BD, Cooper, le nostre squadre di terra non arriveranno lì in tempo, trovate un modo per distruggere l'arma da piegamento dall'interno, non ci sono altre soluzioni. Comandante Briggs, forse ho una soluzione, con il suo stato esposto il nutto del mio reattore potrebbe destabilizzarsi al centro dell'arma da piegamento. Cosa stai dicendo? Posso saltare, invio le coordinate per la narice cella da trasporto. Coordinate ricevute, noi ci saremo ma tu come diavolo farai? Fidati, ho fatto i consegni. Lo spero con tutta me stessa, stiamo arrivando, in bocca al lupo entrambi, passo e chiudo. Tranquillo BD, non vado da nessuna parte. Ricevuto. Protocollo 3, proteggere il pilota. BD, che stai facendo? Fidati di me. BD! Cooper! Abbiamo perso il segnale di BT! Ci siamo quasi! Cooper, sto segnando le coordinate sul tuo hat. Il punto d'estrazione potrebbe essere in aria, non possiamo atterrare qui! E se devo volare in mezzo a questa merda, vedi di essere puntuale, ragazzo. Muoviti, pilota! Sto segnando le coordinate sul tuad. Il punto di trazione potrebbe essere in aria. Non possiamo atterrare qui! E se devo volare in mezzo a questa merda, vedi di essere puntuale, ragazzo. Muoviti, pilota! Mi seguo! Continua! Sto segnando le coordinate sul tuad. Il punto di trazione potrebbe essere in aria. Non possiamo atterrare qui! E se devo volare in mezzo a questa merda, vedi di essere puntuale, ragazzo. Muoviti, pilota! Mi seguo! Continua! Continua! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Forza, sei quasi arrivato! Muoviti! Cooper, salda! Contatto visivo! Preso! Forza, pilota! Banger, tiraci fuori! Prezzetevi! Molte persone ti devono la vita. e ABT. E ABT. Barker, stabilisci la ruta per Harmony. Portaci a casa. Ricevuto! La distruzione di Typhon ha salvato il pianeta Harmony. La milizia lo considera il suo quartier generale, ma per milioni di persone è casa. Il comandante Briggs dice che entrerò nel corpo Maroder e avrò un nuovo Titan, dopo che i tecnici avranno azzerato il mio collegamento neurale con BT. Non so a cosa si provi, a essere assegnati a un nuovo Titan. Mi piaceva quello vecchio. Buon lavoro su Titan. Ti guarda. Qui è il pilota Jack Cooper. Chiudo. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti